l'amara sorpresa degli italiani il primo giorno dell'anno è stato il rincaro dei prezzi di gasolio e benzina di 18 centesimi causa la mancata proroga del taglio dell'accise sui carburanti taglio già parzialmente non rinnovato il 30 di novembre del 2022 il prezzo del gasolio ritorna così nei self service oltre l'euro e 80 mentre per un litro di servito si oltrepassa i due euro l'effetto principale sarà l'aumento dei costi del trasporto su gomma con conseguente aumento dei prezzi delle merci